Abbiamo avuto in questi giorni prime decisioni del governo sulla nota di aggiornamento, il DEF, sulle prospettive economiche del nostro paese. Il governo è in difficoltà, ovviamente. Io non credo che servano a molto gli interventi sui bonus. Ogni tanto ci inventiamo un bonus con risorse così limitate da apparire ridicole. Abbiamo avuto questo anno un aumento del 20% del prezzo del latte. Paghiamo la benzina al prezzo più alto d'Europa. Ci auguriamo, ma avremo modo di verificarlo quando sarà presentata la legge di bilancio, che ci si decida davvero a imbocare la strada della serietà e del rigore, non penalizzando possibilmente la povera gente, ma penalizzando le corporazioni che continuano a fare affari nel nostro paese.